Le previsioni meteo in Sicilia per lunedì 2 dicembre di Globus Television. Pressione in aumento sulla regione. Giornata con tempo asciutto, ma con cielo molto coperto o spesso coperto sui settori centro-settentrionali. Non sono attese precipitazioni. Venti da nord temperature massime non più alte di 18 gradi. Grazie a tutti.